Niente cancello, nessuna blindatura alle finestre. Sono due vecchi innocui. Tra poco vanno a nanna, alle nove, puntuali come orologi. Ci possiamo fidare? Un laboratorio qui nel nulla non mi convince. Meia! Che volete? Ma dove cosa succede? Siete sicuri? Di cosa? Siete sicuri di voler entrare? Tutto qui. Ma che cazzo dici? Siamo arrivati in tante carchie. Et voilà! Buonasera, Gianni. Buonasera, Antonio. Ci hanno segnalato una banda di rapinatori. Ma che c'è qualche problema? Cazzo, è blindata. Siete stati voi a voler entrare? Ci sono delle scale che scendono. Dai, ci andiamo a questo posto di merda. Anche voi potrete guardarvi dentro, nel profondo dell'animo. Ma non volete sapere chi siete veramente? No, 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 no Grazie a tutti.